Il prossimo 25 maggio si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. Nel caso in cui la tessera elettorale non sia più utilizzabile per mancanza dello spazio per il timbro di certificazione del voto, è possibile richiederne il duplicato esibendo la tessera originale completa presso le sedi delle 10 municipalità cittadine da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14. Nel caso fosse deteriorata, per richiedere il duplicato è necessario consegnare presso lo sportello la tessera originale. In caso di smarrimento o furto, infine, il duplicato potrà essere chiesto previa presentazione della denuncia presentata alle forze dell'ordine. In ogni caso è comunque possibile chiedere il rinnovo o il duplicato della tessera con rilascio immediato presso la sede del servizio elettorale presso il parco quadrifoglio in via dell'Epomeo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Grazie a tutti!